Ancora nessuna traccia di Guglielmo Ruisi, l'imprenditore edile di 51 anni, sospettato e ricercato per l'omicidio di Salvatore Roberto Scammacca, 47 anni, l'operario ucciso il 10 ottobre scorso a Valguarnere, provincia di Enna. Il 51enne è ricercato ormai da sei giorni, ma ad oggi non sarebbe stata trovata neanche la sua auto, una Mercedes, con la quale è fuggito subito dopo aver sparato almeno tre colpi di pistola a Scammacca. Nelle ricerche sono impegnati anche i carabinieri dello squadrone cacciatori di Sicilia. Sembra che anche le intercettazioni disposte sul cellulare dell'uomo per accertare se ci fossero tracce di aggancio a celle telefoniche, fino ad oggi non abbiano dato alcun esito, segno che l'uomo potrebbe aver gettato il telefono. La vittima, che era a bordo della sua Fiat Panda, appena raggiunto dal primo colpo di pistola, aveva perso il controllo ed era finito contro il furgoncino di un venditore di frutta, investendo il commerciante e un'anziana cliente. Nuzia Arena, 86 anni, morta poche ore dopo all'ospedale di Caltanissetta per le gravi lesioni causate dall'impatto. Le ricerche dell'uomo erano scattate subito dopo, ma fino ad oggi sembra essersi volatizzato. Intanto, dopo l'autopsia, il corpo di Scammacca è stato restituito alla famiglia e sono stati fissati i funerali che saranno celebrati oggi alle 15.30 nella chiesa madre di Valguarnera e sempre oggi nella stessa chiesa alle 17.30 si svolgeranno i funerali di Nunzia Arena. Le ricerche nel frattempo continuano.